Per chiudere la fase 1 abbiamo bisogno di dare la risposta a tutti quei lavoratori e lavoratrici che da una parte attendono l'erogazione della cassa integrazione in deroga e dall'altra porta certezza rispetto al loro futuro. Nel prossimo decreto dico subito che ci sarà un ulteriore stanziamento per prorogare la deroga e per quanto riguarda la nostra regione noi abbiamo consegnato all'Inps 37.000 domande che sono accordi certificati che rappresentano l'86% di tutte le domande sui due decreti dal 23 febbraio fino a metà maggio quindi sia sul decreto 9 che il decreto 18 e stiamo parlando di 30.000 dattori di lavoro, 96.000 lavoratori coinvolti. Entro la prossima settimana siamo in grado di consegnare il 100% degli accordi che sono arrivati in questa regione all'Inps quindi abbiamo chiuso la fase 1 dal punto di vista del diritto e ci sarà uno stanziamento di 325 milioni di euro al regime che è in grado di dare una risposta a tutte le aspettanze dei lavoratori e lavoratrici sia per quanto riguarda la parte economica sia per quanto riguarda la parte previdenziale. Poi discuteremo nel nuovo decreto il come si agirà rispetto alle norme che avremo nelle prossime ore.